E' nuovo la formazione del 120 anni della prima squadra della Capitale, il nostro fondatore Luigi Pizionelli. I nostri pianieri, o i dubitetti, Sante Ancherani, Perito e Panimani, Fortunato Madenini, Ezio Stagli, L'uomo che impedì la fusione, il generale Giorgio Pagano, La più grande agenda del calcio italiano, Silvio Piola, Francesco Gliabriotti, Remo Zenotti, Uber Cadella, Sentimenti Quarto, Una leggenda, Il nostro fondatore italiano, Un grande presente della postura sportiva, Rezzo Agostini, Ed oltre il muoto, Una delle altre sezioni gloriosi, Ed oltre il muoto, E' ancora, Aldo Villa, Il cittadini, Il cittadini con l'Italia, E al mondo si chiama, Fosco Gocchi, E il festival, Giulio Glorioso, Parca dudismo, Vito delle Dotte, Raghi, che a lui ci vedo un po', Garantaggio, Gabriele Capascenti, Pentadone, Erna, Michelli, e il calcio per fine, Patrizia, Vagnico. Una vita per i nostri ricordi. Arriva lui, Roberto, con Lovati. E gli anni sessanta ci partono di nello governato. E ci trovano la squadra più amata di sempre. Arriva lui, Vincenzo D'Amico. E ancora, Luciano De Zucconi. Vincenzo D'Amico. E poi, il grido di battaglia, Giorgio D'Amico. Lui è da sempre uno di noi. Felice! Un padre per i suoi grazi. Un maestro che ci sta guardando. Giorgio D'Amico. Tommaso D'Amico. E ora il nostro caro Angelo. Vincenzo D'Amico. E ora il nostro caro Angelo. Vincenzo D'Amico. Giorgio D'Amico. Siamo la rete del corpo. Giuseppe. Giorgio D'Amico. E ora, siamo arrivati ai giorni nostri. Giorgio D'Amico. Giorgio D'Amico. Giorgio D'Amico. Giorgio D'Amico. Giorgio D'Amico. E se invece di apparire, Giorgio D'Amico è ancora il centro. Giorgio D'Amico. E ancora, il guerriero Diego Cuoco. Giorgio D'Amico. 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 E infine il personaggio più importante nella storia della Lazio, il suo popolo, perché dal 1900 la SS Lazio è la sua gente!